E ormai tra i premi più ambiti del settore per la ventiduesima edizione torna il Satirion per l'archeologia, appuntamento il 18 settembre a partire dalle 20 e 30 presso il castello Muscettola di Leporano. Verrà conferito a Roberto Petriaggi, archeologo subacqueo, direttore di archeologia marittima mediterranea e già direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro, ma anche a Rita Auriemma, docente di archeologia subacquea dell'Università del Salento e poi riconoscimenti speciali a Cataldo Pierri, ricercatore di biologia dell'Università di Bari e agli sportivi della provincia Tarantina, ritira la karateca delle fiamme oro Silvia Semeraro e poi il cantautore Renzo Rubino. Presenterà il direttore della redazione di Antena Sud Gianni Sebastio, anche quest'anno importanti partner per gli organizzatori, la proloco di Leporano, tra cui il Mibact. È una manifestazione che è finalizzata chiaramente a dare un riconoscimento a chi con gli studi, la ricerca, gli scavi, è riuscito a mettere in luce la storia antica, la storia del passato e nello stesso tempo a condividerla con la collettività. Quest'anno dobbiamo dire che il filo conduttore è il mare, l'archeologia subacquea. È un lavoro che spesso avviene dietro le quinte, questa è una occasione per metterlo in mostra, ma nella migliore delle accezioni perché si premiano le eccellenze e il duro lavoro. Sì, è vero, questo è proprio vero. L'archeologia subacquea attira molto il grande pubblico proprio perché i ritrovamenti di antichi relitti o magari di statue, di bronze, fanno pensare a un lavoro molto divertente che si svolge appunto al mare nella bella stagione, ma invece in realtà c'è dietro molto spirito di sacrificio e un duro lavoro. Accesso solo con Green Pass e prenotazione sul sito proloco leporano.it